Il territorio del Parco regionale dei Monti Aurunci, da Maranola e Trivio a Forme ed Esperia, passando per Campodimele e Itri, quale palcoscenico ideale e suggestivo per costruire momenti di comunione e di pace grazie alla forza straordinaria della musica popolare. La conclusione dello stato di emergenza non è stata una casualità per la presentazione di due eventi che hanno a che fare con le attuali emergenze del momento, il Covid e la guerra in Ucraina. Se la ventottesima edizione del Festival de la Zampogna dal 14 al 24 aprile recupererà quella rinviata a novembre a causa della pandemia, la prima edizione di Bizantina tra Oriente ed Occidente e Musiche di Pace dal 2 al 10 aprile vuole lanciare invece un ponte con i territori ucraini invasi dalle truppe russe e anche promuovere la ricchezza della cultura bizantina sul territorio degli Aurunci, che non deve essere solo tutelato ma anche promosso. La tutela rappresenta certamente una delle finalità per noi più importanti. Accanto a questo però abbiamo inserito la promozione che in questo periodo di pandemia ha portato molte persone a visitare le nostre comunità, i nostri territori, le nostre montagne. Questo ci ha servito a capire quanto è apprezzato e quante persone sono disposte a venire a scoprire le nostre meraviglie. Per il sindaco Taddeo questi due eventi rappresentano un'occasione importante per la promozione e valorizzazione di Formia e del comprensorio. Siamo fortunati per la presenza del maestro Ambrogio Sparagna che ci coinvolge nelle manifestazioni che vengono promosse quindi è di aiuto non solo le bellezze naturali che abbiamo ma anche le capacità delle persone che poi vivono in questo territorio e ci offrono delle opportunità che dobbiamo assolutamente sfruttare. Ospite d'onore del festival La Zampogna sarà la cantante e suonatrice ucraina Caterina Zarkova in arte ECA. Da 15 anni compone e si esibisce con la sua bandura uno strumento antico simile ad un liuto insegnando in Italia creando un dialogo tra culture nel segno della melodia. Abbiamo voluto nonostante tutto riprendere per dare un segno di importanza, di continuità con un progetto che oramai da quasi 30 anni ci vede protagonista insieme a Erasmo Treglia di questa quasi utopia di valorizzare il territorio come luogo di incontro, di eccellenza, come luogo di costruzione di pace.